Oggi parliamo dei capsule hotel Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Alessia, sono un social media manager e mi occupo del settore alberghiero e proprio per questo oggi vi voglio parlare dei capsule hotel che sono una tipologia poco conosciuta in Italia, ma in realtà sono diffusissimi in Asia mi raccomando alla fine del video come sempre vi aspetto nella sezione commenti perché voglio sapere la vostra opinione in merito ma veniamo a noi, capsule hotel sono nati a Osaka nel 1979 ed erano destinati a una clientela che praticamente erano di quei dipendenti che facevano tardi al lavoro, perdevano l'ultimo treno e quindi serviva loro un posto dove passare la notte senza dover spendere un patrimonio quindi qual è la particolarità di questo hotel? è che qui non ci sono stanze ma ci sono vere e proprie capsule solitamente le dimensioni sono 2 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza e 1 metro e 25 in altezza per quanto riguarda il comfort troviamo la tv, troviamo la radio, il wifi, il riscaldamento, aria condizionata mentre i bagagli verranno depositati in un'area di sicurezza per chi vorrà mangiare lo potrà fare ci sono alcuni capsule hotel che rispongono di un piccolo ristorante e comunque ad ogni piano solitamente si trovano delle macchinette quindi è una soluzione economica che ha preso piede in Asia come dicevo è nata in Giappone ed evidentemente si è diffusa ma perché oggi vi sto parlando di questa tipologia di hotel? perché questa idea del 1979 è stata portata anche in Italia da un'azienda tutta italiana che si chiama Zrip & Go e a posto della S iniziale di Slip ci sono tre Z come dicevo questa azienda tutta italiana ha creato questi capsule hotel qui da noi partendo dall'aeroporto di Milano se mi sbaglio quello di Bergamo, Oriol serio e devo dire che nel primo anno, nel 2017, ha ospitato circa 3.000 passeggeri che è un numero enorme calcolando che non hanno tantissimi capsule hotel all'interno dell'aeroporto chi è il target di questa azienda? sono le persone che hanno perso l'aereo o che hanno un'attesa infinita tra un volo e l'altro e invece di dormire su una sedia o per terra decidono di prenotare uno di queste capsule hotel di queste capsule per poter riposare calcolate che all'interno c'è anche qui musica si può navigare, ci sono dei giochi si può dormire ovviamente l'unica cosa che non si trova qui all'interno sono i bagni e in questo caso si potrà usufruire dei bagni dell'aeroporto ovviamente ci sono le prese per ricaricare i propri dispositivi e la privacy è garantita perché le finestre e il tettuccio si possono oscurare questa idea ha avuto così tanto successo che questa azienda ha deciso di espandersi infatti troviamo queste capsule anche all'aeroporto di Milano quello di Linate e poi a Torino e a Verona e tant'è che adesso si stanno espandendo anche in Europa personalmente non ho mai usufruito di queste capsule hotel e spero di non doverlo fare mai ma ho letto un po' di recensione online e le opinioni sono discordanti c'è chi lo apprezza per il posizionamento e qui direi ci mancherebbe cavolo se non siamo contenti per il posizionamento di queste capsule hotel che sono all'interno dell'aeroporto che cosa vogliamo di più? perché calcoliamo l'aspetto economico mettete che dovete passare una notte fuori e decidete di prendere una stanza dovete pagare un taxi e arrivare al primo hotel più vicino che solitamente le hotel vicino agli aeroporti costano tantissimo quindi questi qui sono abbastanza economici per l'utilizzo che se ne deve fare e secondo me non ci si può lamentare di questo aspetto a confronto di dover prendere un hotel al di fuori dell'hotel a confronto di dover prendere un hotel al di fuori dell'aeroporto infatti per quanto riguarda il prezzo se lo si prende per tutta una notte sì, magari è il costo di un BNB ora non ho fatto i confronti con i costi di Milano in generale però il prezzo a me sembra accessibile anche perché si può pagare anche ore quindi si paga tendenzialmente 9 euro la prima ora e poi le ore successive vengono scaglionate a minuti quindi tu paghi effettivamente il tempo di utilizzo quindi se stai un'ora e un minuto paghi per un'ora e un minuto quindi è conveniente da questo punto di vista l'altro aspetto che viene molto apprezzato è la pulizia in questi capsule hotel c'è solamente un lenzuolo che viene cambiato davanti al cliente davanti a un macchinario che in realtà è una fascia che viene posizionata sul materassino quindi non vi aspettate biancheria non vi aspettate coperte l'altro aspetto sono le tecnologie interne che sono anche queste molto apprezzate per quanto riguarda invece le opinioni negative ho notato che secondo me alcuni durante la fase di prenotazione non hanno capito cosa stanno andando a prenotare ovviamente questo tipo di recensioni le ho trovate soprattutto su Booking che lì le persone non leggono è assodato in tanti anni passati in hotel le persone che prenotano su Booking non leggono quello che c'è scritto quindi poi si presenta il reception e dicono ah ma voi non l'avete scritto e no c'è scritto tutto quindi adesso non so se la descrizione di Booking in questo capsule hotel si è stata modificata recentemente ma le informazioni online sono ben chiare gli altri pareri negativi che ho trovato è in merito alle coperte praticamente viene lamentata l'assenza di una coperta però so che vicino a queste capsule solitamente ci sono degli shop sempre legati a questo brand che dovrebbero fornire delle coperte però a pagamento dovete capire una cosa qui non c'è personale non c'è staff qui è difficile mettere una coperta far trovare una coperta pulita a tutti i passeggeri sì c'è lo staff delle pulizie che viene a pulire ma per soddisfare la domanda mettere le coperte così a disposizione di tutti e farle trovare pulite vi chiederebbe una tecnologia che al momento secondo me loro non hanno a disposizione o che comunque non avevano previsto l'altra recensione negativa però forse la più importante da tenere in considerazione è quella dell'insonorizzazione ovvero molti lamentano che queste capsule non siano abbastanza insonorizzate e quindi che il sonno sia disturbato quindi bisogna magari modificare questo aspetto però calcolando l'uso che se ne deve fare e del perché uno decide di approfittare di queste capsule secondo me sono un'ottima soluzione per non dover passare la nottata a terra in aeroporto come dicevo prima qui staff non ce n'è tant'è che i check-in e i check-out sono virtuali viene tutto effettuato tramite il computer anche se hanno un numero di emergenza che mettono a vostra disposizione e quindi non vi preoccupate se succede qualcosa comunque secondo me da questo punto di vista sono preparati ora secondo me questa è un'ottima idea perché a parte che hanno già avuto loro un riscontro se non ne aprivano altri secondo me non erano così passi da aprirne altri se poi nessuno ne soffruiva come dicevo i numeri già ci sono stati all'apertura nel 2017 e secondo me sono andati sempre più crescendo è ovvio che per ogni cosa ci sono degli errori che vengono compiuti all'inizio e poi man mano verranno modificati e questo è quello che devono fare loro secondo me leggere attentamente le recensioni e cercare di apportare le modifiche necessarie per i prossimi che andranno ad aprire io personalmente penso che in caso di emergenza ne utilizzerei uno ma come ho detto prima speriamo di non doverne utilizzare mai quindi di non perdere mai un aereo o di dover aspettare ore infinite infatti io personalmente scelgo i voli diretti per quanto mi è più possibile ora fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se ne avete mai visti o comunque se ne avete mai utilizzati o se magari siete stati proprio in Giappone e li avete utilizzati lì io quando sono stata in Giappone non ho dormito in un capsule hotel non l'ho provato però ho provato un ryokan e ve ne parlerò in un prossimo video così per curiosità spero che questo video vi sia piaciuto vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e se volete migliorare il copy del vostro sito o comunque le vostre tecniche di copywriting vi invito ad andare sul mio sito www.alessiaboccanfuso.com per scaricare gratuitamente la guida tecniche e pratiche di copywriting besos